A disposizione di mister Fabio Gallo, con il numero 22 Andrea Tozzo, con il numero 2 Alessandro Acelli, con il numero 5 Antonio Padundo, con il numero 10 Daniele Vantaggiato, con il numero 15 Emanuele Swager, con il numero 16 Giuseppe Argento, con il numero 20 Fabrizio Paghera, con il numero 21 Giuseppe Torromino, con il numero 26 Gianmarco... Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.